Ambrogio Renzetti si distingue tra i pittori a lui contemporanei, i senesi e più generalmente italiani per la sua straordinaria capacità inventiva, una creatività quella di Ambrogio Renzetti che investe a un tempo gli aspetti delle tipologie, dello stile e forse soprattutto delle iconografie. Ambrogio infatti fu capace di dare vita a delle soluzioni iconografiche davvero fuori dai canoni più consolidati, ma non si trattava mai di giochi intellettualistici gratuiti e autoreferenziali, queste ricerche iconografiche di Ambrogio erano sempre orientate dalla volontà di amplificare la pregnanza e l'efficacia comunicativa delle sue opere e di caricarle di nuovi e più profondi significati. Un caso veramente interessante e semplificativo di questo sperimentalismo iconografico di Ambrogio ci viene offerto dal ciclo di affreschi realizzato dal pittore intorno alla metà degli anni 30 del 300 nella cappella annessa alla chiesa rotonda di San Galgano sul Monte Siepi, questa collina che si erge accanto alla piana dove sorge la famosa abbazia scoperchiata di San Galgano. Ebbene sulla parete di fondo di questa cappella Ambrogio raffigurò un'annunciata talmente sconvolgente da essere ritenuta fin troppo ardita anche dei suoi contemporanei al punto che la figurazione è forgetto, e qui veniamo al centro del nostro interesse, di un intervento censurante. Ambrogio aveva immaginato in origine un'annunciata talmente sopraffatta dalla portata del messaggio del messo divino di Gabriele da casciarsi a terra e cercare il sostegno di una colonna. Questa soluzione così originale noi la possiamo ancora visualizzare grazie alla sinopia ovvero al tracciato preparatorio dell'affresco che è stato riportato alla luce con lo strappo della superficie dipinta e che ci permette poi davvero di osservare questa minuta indagine degli affetti, questa recitazione del pathos davvero senza paralleli che Ambrogio aveva saputo rappresentare. E diciamo che questa scelta si inserisce poi in una volontà di rappresentare la storia sacra in una chiave più umana fatta di sentimenti più comprensibili per il pubblico contemporaneo ma senza poi allontanarsi dall'alvio dell'ortodossia perché questa idea della reazione di paura della Vergine trova un presupposto testuale, un fondamento diciamo così dottrinario nei Vangeli canonici in particolare nel Vangelo di Luca in cui si parla espressamente della conturbazio virginis cioè proprio del timore, del turbamento della Vergine dinanzi all'annuncio. Eppure i cistercensi di San Galgano a cui verosimilmente spetta la commissione di questo ciclo pittorico non dovettero apprezzare la soluzione così originale immaginata d'Ambrogio e probabilmente poco tempo dopo l'esecuzione della Fresco l'originale redazione fu coperta da un secondo pittore che trasformò l'annunciata spaventata in una Vergine accepta, cioè una Vergine che incrociando serenamente le braccia al petto si mostra come dire accogliente, diciamo accoglie ecqua il messaggio di Gabriele e si fa quindi serenamente appunto vaso dell'incarnazione. Da un lato dunque la modifica fu volta a semplificare evidentemente questa immagine così anticonvenzionale che Ambroggio aveva proposto nel segno quindi di una maggiore chiarezza visiva ma forse c'è anche una ragione più profonda per questa modifica, una ragione per così dire dottrinaria perché agli occhi dei cistercensi di San Galgano evidentemente questa immagine di Maria così appunto turbata dall'annuncio doveva apparire confliggente con la visione della Vergine annunciata che invece emerge dagli scritti di colui che viene di solito additato come il fondatore dei cistercensi Bernardo di Chiaravalle che in più occasioni appunto aveva sottolineato il fermo proposito, l'irrevocabile decisione della Vergine che al suo incontro con Gabriele, conscia appunto del suo altro ruolo, ascoltò e credette, vide e comprese. Quindi non solo una semplificazione ma un vero e proprio adeguamento dottrinario nel segno appunto della dottrina mariologica di Bernardo di Chiaravalle.